Allora, Dottor Storano, Vice-Sindaco di Napoli, città in fermento, che dice un po' di terremoto, ma va bene anche così. Oggi è una bella giornata e siamo contenti che dopo un anno esaturo alla manifestazione dell'anno scorso, poter annunciare che Napoli ha deliberato, come ci eravamo impegnati, i registri di unicevili a Napoli oggi, tutti possono dichiararsi alla nagret del comune. È un piccolo passo e speriamo che anche altre città lo facciano e sia il preludio a che il Parlamento nazionale finalmente faccia la legge per riconoscere l'unione di fatti in questo paese. C'è chi critica un po' questo corteo, dice che il sindaco dovrebbe occuparsi di altro, ma anche questo si può dire che è altro, perché inizio alla città. Ma questi sono cittadini di questa città, sono cittadini che vengono da fuori, dobbiamo solamente avere la capacità, la cultura di comprendere che la città è complessa, è fatta di tante facce, di tanti colori e tutte le facce, tutti i colori hanno cittadinanza e una città di Napoli. Roma omofoba, Napoli anti-omofoba, lo possiamo dire a gran voce. Ma io penso che Roma non si occupa, c'è un sindaco che non è, non sono cittadini di Roma, non sono cittadini di Roma, non sono cittadini, ci hanno molta ignoranza, molta resistenza, no sé quando l'altro non si occupano, sia un sacerdino di Roma. Ciao! Buongiorno a più. Siamo inizi到 che presto, Siamo iniziati,